La tutela ambientale passa soprattutto attraverso il controllo e il monitoraggio del territorio. Il controllo, effettuato in regione dalle strutture territoriali dell'Arpa Molise, è finalizzato alla ricerca dei rifiuti interrati, delle discariche abusive, degli abbandoni di rifiuti pericolosi, in particolare di manufatti contenenti amianto, delle aree di combustione illecita di rifiuti, nonché di quelli radioattivi. Stando all'ultimo report disponibile, nel 2022 sono stati segnalati 26 siti, di cui 4 configurabili come vere e proprie discariche abusive e 22 come abbandono di grossi quantitativi di rifiuti eterogenei. In 12 siti sono stati rinvenuti manufatti in cemento amianto, in 11 rifiuti edili e in 9 i cosiddetti RAE, ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come frigoriferi, televisori, computer, ecc. I rifiuti urbani differenziati e non quelli ingombranti e gli pneumatici, invece specifica l'Agenzia regionale di protezione ambientale, non vengono conteggiati perché sono una presenza costante in tutte le aree di abbandono. Per quanto riguarda infine l'attività di ricerca dei rifiuti cementizi contenenti amianto, che vengono abbandonati sul territorio, sono stati effettuati 16 campioni. In alcuni siti sono emersi anche elementi utili per risalire responsabili dell'illecito. Nel periodo 2014-2022 sono stati effettuati dal Dipartimento di Campobasso 1038 controlli del territorio per contrastare proprio il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Dai dati raccolti in questi anni si evidenzia come, da una prima fase acuta 2014-2015, si sia passati ad un progressivo calo del fenomeno degli abbandoni. Il 2019 in particolare ha fatto registrare la riduzione più sensibile di questa attività illecita in civile. Anche il 2022 conferma questo trend e si attesta su valori prossimi a quelli dell'anno precedente. Un risultato certifica Arpa Molise conseguito grazie alla costante attività di controllo del territorio da parte degli organismi di controllo e all'impegno profuso degli enti locali nelle attività di prevenzione, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati. Per quanto riguarda l'amianto, anche nel 2022 si è registrato un calo negli abbandoni, pur non cambiando le modalità di scarico sul territorio. La prassi di abbandono si è ormai consolidata e affinata negli ultimi anni ed è sempre quella di evitare il più possibile il trasporto di manufatti cementizi troppo visibili e ingombranti, ma di abbandonarli dopo averli frantumati, mescolandoli con i rifiuti edili o nascondendoli sotto quegli urbani o scaricandoli in luoghi difficilmente accessibili.